Berlino, 20 gennaio 1942. Dove ci ha portato, Müller? Sembra davvero un luogo feudale. È come una serata tra camerati, ma senza la birra. In quella villa si stava scrivendo la storia. Sono stato incaricato di fare tutti i preparativi necessari a livello organizzativo per una soluzione globale della questione ebraica in Europa. Proponiamo una evacuazione degli ebrei verso l'est. Sono oltre 11 milioni. Dobbiamo continuare ad avere il coraggio e fare il salto verso la grande visione. Per la giornata della memoria. Ci sono gli ebrei che hanno combattuto per la Germania. Parliamo di utilizzare il gas. Anche lei è stato in trincea. Noi sparavamo dei soldati. Non la donna e i bambini. La Conferenza. Questa sera 21 e 45. Rai 3.